Ciao amici sportivi, tra il primo e il secondo tempo da partita Varese-Bari, Hospitality come tutti gli stadi importanti d'Italia, anche il Franco Ossola da quest'anno ha questo servizio curato da Villa Coca di Gavirate. Qui con Antonio. Ciao Antonio. Salve. Apprezzano i nostri ospiti tutto questo ben di Dio che voi offrite? Sì, apprezzano tanto. Tanto si vede, abbiamo sia un infresco di salato e dolce. Abbiamo anche un po' d'acqua fresca, il prosecco per chi può berlo, però vedo che apprezzano. La cosa che è andata di più oggi? Di più il salato. Il salato, sì. La pizza, il tramezzino, sì. Ci hanno detto che fate delle torte molto molto buone. Sì, la nostra cuoca prepara tutti i dolci lì in cucina, non sono comprati. Debora. Allora, amici sportivi, loro sono qua a curare questo servizio, ma hanno un ristorante, lo vogliamo dire dove? A Gavirate, via del Chiostro, numero 14. Ok, li aspettiamo tutti a Villa Coca a Gavirate. Ciao a tutti. Ciao Antonio. Ciao. Ciao. Ciao.